La creatività? Beh, la creatività c'è in tutti i campi, in tutte le iniziative umane. Io però sono magari più competente a parlare di creatività nel mondo della moda. Ora, nel mondo della moda è la componente essenziale, perché senza creatività, che va poi d'accordo con l'innovazione, non si possono realizzare prodotti che siano appetibili per il mercato. Quindi la base del successo di una collezione sta proprio in quella.